Un'altra lezione alla sua maniera, fatta di continue domande e stimolazioni verso i ragazzi, quella tenuta a Sansepolcro nell'aula magna dell'Istituto d'Arte Giovagnoli dal dottor Gerardo Colombo, ex magistrato e ora scrittore che gira l'Italia parlando di legalità agli studenti delle medie superiori. E' stata questa la prima parte della giornata biturgenze dell'ex magistrato di Mani Pulite, al quale nel pomeriggio il Consiglio Comunale ha consegnato la nona edizione del premio Cultura della Pace. Una consegna, quella del premio Cultura della Pace, avvenuta il 23 maggio, giorno in cui la recente storia d'Italia ricorda il diciassettesimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e quasi tutti i componenti della scorta. Per Gerardo Colombo quello è stato e rimane un pomeriggio di guerra. Adesso i ragazzi fanno fatica, credo, a percepire l'enormità del gesto. Io francamente avrei lasciato l'autostrada così com'era, avrei fatto una deviazione perché si vedesse, allora da l'ora in avanti che cosa era stato fatto. Però quello che vorrei sottolineare io è che di fronte a quest'atto di guerra all'inizio, subito dopo sembrava che i cittadini italiani veramente si rivoltassero contro la mafia. E poi invece cosa è successo? Che progressivamente si è tornati all'indifferenza. Se prevale l'indifferenza poi le speranze sono poche. Sicuri di star bene? C'è qualcuno che è in quinta o no?